bomba ritrovata in via puccini sono arrivati gli artificieri per disinuscare lavori per luce acqua gas in via puccini dove ci sono le scuole mi hanno telefonato immediatamente che qua hanno trovato una bomba adesso vedremo adesso andrò a chiedere ecco qua qua siamo in via puccini e qua hanno trovato questa bomba di un metro circa qua ci sono i lavori gas acqua e luce adesso andiamo a vedere io avevo già fatto prima il servizio e questo telefonino ci fa ecco qua qua mi hanno fatto vedere qua era la bomba inserita sono arrivati gli artificieri sono arrivati gli artificieri e hanno disinuscato portato via la bomba non ha fatto neanche saltare ma l'hanno fatta solo l'hanno portata via penso che era una bomba del 15 18 ecco qua ci sono i lavori perfetto ecco ok e questi lavori sono per la luce l'acqua e il gas perfetto sentire loro buon lavoro e chiudiamo qua il servizio vado di nuovo qua che non si sa mai così così questo qua già stasera se vai se vai su facebook ecco qua se gorizia tv gorizia tv giornale non si sa domani ecco qua ecco qua